L'acronimo, che cos'è, come lo possiamo creare e perché io suggerisco a ognuno di creare i propri acronimi. Io sono Zeneli Vinci, da diversi anni guido dei laboratori sull'arte della memoria e da questa esperienza è nato il testo 10 passi nel palazzo della memoria guida alle mnemotecniche, chi volesse maggiori informazioni le troverà nella descrizione di questo podcast. In questo episodio vorrei vedere insieme a voi che cos'è l'acronimo e come si crea e perché è importante, perché è utile utilizzare gli acronimi. In un episodio precedente io proponevo una riflessione sui 10 principi della memorizzazione e per farlo utilizzavo un acronimo, la parola KAPALIVIP, KAPALIVIP e ripasso. La parola KAPALIVIP che nasce dalla unione di tre acronimi, KAP, ALI, VIP. Quindi proprio per ricordare i principi della memorizzazione utilizzavo questa strategia mnemonica che è molto antica ed è sempre nuova. Ora che cos'è un acronimo? Un acronimo è una parola, o anche più parole, che noi otteniamo attraverso le prime lettere, la prima o le prime lettere di una successione di parole. Noi tutti siamo immersi in acronimi, soprattutto dalla cultura anglosassone, ci vengono una quantità straordinaria di acronimi. Acronimi sono per esempio FIAT, ONU, UNICEF, UPIM, anche PNRR è un acronimo. È una strategia comunissima utilizzata spesso, è molto antica, molto antica. Uno degli esempi più belli che io conosco è ICTUS. ICTUS in greco significa pesce. Questo termine era utilizzato dai primi cristiani per indicare Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore e la sua efficacia sta nel fatto che indica qualcosa che io posso visualizzare e disegnare, appunto il pesce che non a caso compare nelle catacombe cristiane e che ha anche un significato legato ad alcuni episodi evangelici. Come noi possiamo creare il nostro acronimo? Io suggerisco di creare i nostri acronimi e se avrete questa occasione condivideteli se volete per parlare insieme magari nei prossimi episodi di questo podcast. Quello che a noi serve per creare un acronimo è un materiale che noi disponiamo secondo una certa successione per ottenere un certo effetto. Ecco, faccio l'esempio del CAPALIVIP, quello che io ho utilizzato per ricordare i dieci principi della memorizzazione. Innanzitutto il CAP. Qui io volevo partire proprio dai primi principi, comprensione, attenzione, pazienza e qui li ho disposti in modo da ottenere una parola. Ho fatto diverse prove, ma alcune non erano convincenti, non so, PAC, P-A-C, oppure APK, non è neanche pronunciabile, e poi ecco che comparve CAP che mi piace subito perché evoco questa idea dell'indirizzo, dove si trova la memoria, qual è il CAP della memoria, qual è il CAP? La comprensione, l'attenzione, e la pazienza. Così anche per le ALI, A-L-I, associare, localizzare, immaginare. È come dire, prendo due piccioni con una fava perché parlo degli acronimi, ma allo stesso tempo ripasso, ripassiamo insieme i dieci principi della memorizzazione. Associare, localizzare, immaginare. Questo acronimo, ALI, non è mio. Per esempio ne parla Dominico O'Brien nei suoi testi, un grandissimo mnemonista. Il problema di Dominico O'Brien è che lui è inglese, quindi nel suo caso ALI non ha un significato particolare, tant'è che lui lo lega a Mohamed Ali, Cassius Clay, al pugile. Nel nostro caso invece noi italiani siamo fortunati perché le ALI, le ALI, cosa c'è di più bello? E quindi ciò che fa volare, ciò che fa prendere il volo alla memoria, che cos'è che fa prendere il volo alla memoria, associare, localizzare, immaginare. E poi le immagini VIP. Ecco, questo acronimo, io per crearlo, sono partito dall'acronimo che spesso viene utilizzato nei testi sulla memoria, l'acronimo PAV, P-A-V, PAV, paradosso, azione e ciò che è legato alla vita, quindi vivace, vivido, per esempio. Ora nel mio caso PAV, a me PAV non diceva nulla, non mi piaceva PAV e quindi ho pensato a ristrutturarlo e è venuto fuori VIP. Il problema di VIP però è che V sta per appunto vivido, vivente, vitale, vita, P sta per paradosso, però la I e qui l'idea è stato quello di creare l'espressione I in movimento, per riprendere l'idea dell'azione, del movimento, quindi immagini vivide, in movimento e paradossali. Qui come si vede, quando creiamo i nostri acronimi siamo liberi, non dobbiamo rispondere ad un'agenzia nazionale degli acronimi, siamo liberi quindi di cambiare l'ordine, di creare dei sinonimi, di inventare delle formule come in movimento, ciò che conta poi è l'efficacia finale. Perché ecco il motivo per il quale l'acronimo è così importante? Perché riduce enormemente il carico mnemonico, riduce il carico mnemonico. Cosa significa? Significa che io non devo ricordare comprensione, attenzione, pazienza, sociale e così via. Io devo ricordare capa l'ivip. Dico alla mia memoria, tienimi questo, restituiscimi questo, al resto ci penso io. È chiaro, è chiaro che io, è come dire, so che cos'è la comprensione, so che cos'è l'attenzione, è qualcosa su cui ho riflettuto, su cui rifletto e rifletterò ancora, però quello che mi serve, come diceva Aristotele, è un punto di partenza, il punto d'avvio. È davvero sorprendente quanto possa bastare, quanto poco possa bastare alla memoria per ricostruire il tutto, ma quel poco devo darglielo, quell'inizio devo darglielo. Ecco l'acronimo è una strategia così potente perché mi dà l'inizio, l'innesco ed ecco che a partire da quello ricostruisco il tutto. Così nel mio caso mi basta ricordare capa l'ivip e poi parto dalla c, la c di comprensione, la di attenzione. Quindi, e questo è un altro motivo per il quale io suggerisco l'acronimo, può essere anche una scaletta, può essere una scaletta attraverso la quale noi ricordiamo anche, come dire, un discorso, dei concetti che sviluppiamo in un discorso. Io ricordo qualche tempo fa il vicerettore, il prorettore dell'università di Cagliari, tenne un discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico e disse che erano cinque i grandi concetti fondamentali dell'università. La prima, il primo concetto era l'unicità della persona, il secondo concetto era il networking e così via. Poi alla fine svelò che questi cinque concetti formavano la parola unica, unica, unica è l'acronimo con il quale qui a Cagliari si indica l'università di Cagliari e qui si vede, ci fu ovviamente un colpo di scena e tutti furono meravigliati positivamente. Qui si può vedere come l'acronimo nel suo caso sia stato la scaletta. Lui tenendo a mente UNICA poteva seguire, infatti parlò a braccio, non aveva bisogno di appunti. Così come anche nel mio caso io posso seguire i dieci principi attraverso il CAPALIVIP, comprensione, attenzione, pazienza e così via. E anche questo è il vantaggio dell'acronimo che non solo mi consente di ricordare una serie di concetti, per esempio, di termini, di parole e così via, ma anche di ricordarne la successione che in certi casi può essere davvero molto importante. Quindi io suggerisco e incoraggio, creiamo i nostri acronimi. Ne ricordo ancora qualcuno che è stato creato durante i laboratori sulla memoria, per esempio, ricordo l'acronimo di Antonio per ricordare le quattro virtù cardinali. Lui creò, propose questo acronimo, giù, prude, forte, giù, prude, forte, giù, giustizia, prude, prudenza, forte, fortezza, temperanza. Questo è un acronimo molto simpatico, anche interessante perché è un acronimo che utilizza, come dire, non la prima lettera, ma le sillabe, un acronimo sillabico. Ricordo un altro acronimo molto simpatico che era quello di Eloisa, che aveva creato un personaggio singolare per ricordare le diocesi della Sardegna, che sono una dozzina, non sono poche, e creò l'acronimo Sabino Talcato, questo personaggio mitico, mitologico, Sabino Talcato, che lui, che lei immaginava, un personaggio che andava di diocesi in diocesi per cercare la sua moglie. E questo ci porta all'altro aspetto fondamentale, cioè creare l'acronimo non è sufficiente perché è necessario dargli vita, dare vita all'acronimo. Cosa vuol dire? Renderlo appunto VIP, vivido in movimento e paradossale. Prendiamo proprio l'esempio del Kali VIP. Non semplicemente io trovo tre acronimi Kali VIP, ma gli do un significato particolari e li associo a ciò che voglio ricordare, cioè qual è l'indirizzo della memoria, comprensione, attenzione e pazienza. Cosa è che fa volare la memoria, associare, localizzare, immaginare? Quali sono le immagini che usa la memoria? Immagini vivi dei movimenti paradossali, immagini VIP. Oppure per esempio l'acronimo di Antonio, Giù pruda e forte, perché è simpatico? Perché lui diceva quando si parla di virtù viene una sorta di orticaria e quindi c'è una sorta di prurito, Giù prude e forte. Così anche Sabino Talcato, questo personaggio strano che andava alla ricerca della sua moglie di diocesi in diocesi. Quindi creiamo i nostri acronimi ma poi diamogli vita, prendiamoli vividi in movimento e paradossali VIP e associamo, associamoli a ciò che vogliamo ricordare e vedrete come creare i nostri acronimi dà una soddisfazione tutta particolare. Poi se volete condividete i vostri acronimi, magari ne parleremo nei prossimi episodi. Alla fine di questo episodio vorrei parlare di un'osservazione che mi è stata fatta a partire dall'episodio precedente dedicato al nemico numero uno della memoria. Io dicevo il nemico numero uno della memoria è il nostro io criticone. Chi vuole può vedere quell'episodio. Ecco mi è stata fatta questa osservazione, cioè però l'autocritica è importante. Ora c'è una grande differenza, una grande differenza tra l'autocritica e l'io criticone di cui parlavo in quell'episodio, perché l'autocritica, se è davvero tale, è propositiva. L'autocritica dice se hai fatto così puoi fare meglio, c'è un livello superiore, hai fatto questo errore per esempio, capiamolo e andiamo avanti. Quindi l'autocritica vera dovrebbe aiutarmi, se è davvero autocritica, dovrebbe aiutarmi a migliorare, è positiva, è propositiva. Mentre il personaggio che evocavo nell'episodio precedente, l'io criticone, non ha alcun che di propositivo, è distruttivo. Dicevo è quella gioia maligna, Schadenfreude in tedesco si dice, la gioia maligna per l'errore che noi stessi facciamo, il nostro Nelson, dicevo nell'episodio precedente, quindi non c'è nulla di positivo in questo io criticone e dicevo stiamo attenti, stiamo attenti perché nella mia esperienza uno dei più grandi pericoli che noi possiamo avere nel progredire nell'arte della memoria, nel gestire la memoria, è proprio questa vocina che diventa sempre più insistente, che ci dice tu non vali, la tua memoria non vale niente, quello che hai fatto non è niente, o addirittura è ridicolo. Ecco, non dobbiamo dare spazio, dobbiamo ridimensionare, come hai cercato di dimostrare nell'episodio precedente. Ecco, io invito a condividere le nostre esperienze mnemoniche nei commenti, chi vuole può anche contattarmi, danielevinci, chiociolapfts.it o anche a incontrarmi di persona, invia San Giust numero 13 a Cagliari dove insegno, sarà per me un piacere parlare dei vostri acronimi, del vostro io criticone se volete, o delle vostre esperienze, delle nostre esperienze mnemoniche e quindi buona memoria a tutti.